Maria Soleto Ignazzi, lo Shaka Film Fest con una retrospettiva l'è dedicata. Questa sera vi ha rappresentato Io e Lei, l'ultimo suo lavoro. Di cosa si tratta? Io e Lei è una commedia romantica e credo sia il primo film in Italia che racconta una storia d'amore fra due donne adulte ambientato ai nostri giorni. Il film è con Margherita Bui e Sabrina Ferilli. È un film che mi ha dato tantissimo, lo sto portando in giro da un po', è uscito ad ottobre dello scorso anno pre-Unioni Civili, pre-DDL Cirinna e quindi è stato particolare un po' anche immaginare di avere un'uscita di un film in un momento storico così delicato. Nel senso non era una cosa pensata, ragionata, è accaduto e l'ho visto un po' anche come un segnale e ne sono molto contenta. Ecco, lo Shaka Film Fest è una retrospettiva a lei dedicata, con lei anche inevitabilmente al suo padre, con un documentario del realizzato, Il ritratto di mio padre. Ecco, cosa significa l'eredità di Ugo Tognazzi per voi? L'eredità per voi, ha detto bene, perché io non sono sola, anzi sono l'ultima di una lunga scia di figli. Posso dire quello che riguarda per me, è un'eredità sicuramente importante ma non ingombrante, io non mi sono mai sentita neanche giudicata, no? Nel senso la curiosità spontanea che nasce nei confronti del figlio di un attore che si mette a fare del cinema è lecita, è normale, è naturale, la trovo anche sicuramente fondata. Ognuno di noi fa il proprio cammino e cerca di dimostrare, di poter fare questo lavoro o meno. L'eredità che mi ha lasciato mio padre non è tanto questo lavoro, che tra l'altro ho scelto di fare in maniera abbastanza particolare e per varie ragioni, ma è un senso di libertà, è un senso di libertà di racconto nel cinema e nella vita, di essere autentici, di essere coraggiosi, una forma di anarchia tutto sommato, perché lui era un uomo molto anarchico. Lei da ieri sera a Sciacca ha già avuto modo di visitare lo Sciacca Film Fest, cosa ne pensa? È possibile fare cultura in una città di provincia? Non solo è possibile, è importante, è fondamentale, ho visto intanto molti giovani, il primo impatto che ho avuto ieri, a parte la location che è meravigliosa, ma non solo Sciacca che è stupenda, io ci ero stata già, ma proprio il posto dove si fa il festival, è pieno di schermi, sale interne, sale esterne, di spazi dove si parla, si guardano film, bisogna tornare, tornare non solo per il cinema, ma in generale per i ragazzi, per questi ragazzi che crescono e che non possono nutrirsi solo di brutte cose.